Si è svolto questa mattina a Ragusa un incontro tra il prefetto Maria Carmela Librizi e il leader dei forconi Mariano Ferro, che già ieri aveva partecipato alla protesta dei produttori di Vittoria, sfiancati dalla concorrenza sleale di un mercato estero che non rispetta le regole stabilite dagli accordi internazionali, causando il collasso dell'economia agricola siciliana. Un rischio di crollo completo del mercato, di cui la protesta di Vittoria rappresenta solo una delle tante manifestazioni promosse, ormai quasi senza nemmeno senso, spiega Mariano Ferro. Bisogna essere operativi, non bisogna più parlare, non bisogna incontrarsi, ormai sappiamo i problemi, li sappiamo a memoria. Perché al prefetto? Perché sarebbe, secondo me, normale, è normale chiedere al prefetto che venga applicata la legge, nient'altro che quello. Nei trattati Euro-Marocco c'è scritto che, oltrepassate determinate quantità che arrivano dal Nord Africa, bisogna bloccare quel tipo di prodotto. Perché evidentemente, cioè non è una cosa che qualcuno aveva previsto, è che oggi sta accadendo. Se arrivano troppi quantitativi di quel prodotto, si ingolfano i mercati e scendono i prezzi. Quello sta accadendo. Per sollecitare i controlli e vedere di, come in qualche modo, capire che cosa arriva, quanto ne arriva, se è il caso forse di dire al Governo centrale che è il caso di fare scattare le norme di salvaguardia. Chiediamo solo di applicare la legge, quello che è stato scritto dallo Stato e nell'accordo Euro-Marocco. L'incontro di questa mattina con il prefetto è stata anche l'occasione per chiedere un incontro con il presidente del Tribunale di Ragusa, per cercare di fare in modo che la magistratura allenti la morsa della tenaglia intorno a chi ha difficoltà economiche serie anche a causa proprio dei crolli del mercato e rischia così azienda e casa. Quello che sono i problemi che vengono dietro a questi prezzi bassi. La prima cosa che viene dietro a questi prezzi bassi è quello che non si potranno ovviare ai pagamenti degli assegni già fatti o delle cambiali o delle rate di mutuo. Questo che cosa scatenerà? Scatenerà sicuramente altri pignoramenti, altre aste giudiziarie.